8 marzo, la giornata internazionale della donna. Facciamo una sintesi, prof. Io mi approccio al tuo ultimo parola. La sintesi è l'ideale della donna per le virtù che possiede, e sono tantissime. Il problema qual è? È che dall'altra parte ci dovrebbe essere una catarsi, una purgazione del proprio egoismo, della propria idea di possesso, della propria idea di superiorità. Tutte e due sono essenziali, l'uomo e la donna. Ognuno ha le proprie funzioni. Il problema qual è? Che noi, se siamo sulla faccia della terra, lo dobbiamo una donna. E se noi praticamente in effetti, in casa, abbiamo la custode della famiglia e della casa in senso di home, cioè focolare domestico, che si preoccupa non solo di gestire la casa nel modo che sappiamo, nonostante lavori, nonostante abbia preoccupazioni che sono conservate nello scrigno della sua anima, come per la preziosa, perché lei non deve dimostrare che soffre. Non deve dimostrare le tripolazioni. Sono cose che conserva dentro di sé. La famiglia deve crescere anche attraverso la sua serenità, la fede e la speranza che un domani sia diverso. E questo domani, secondo te, mai arriverà? Questa, diciamo così, quasi unificazione tra l'uomo e la donna? Allora, il problema dovrebbe esserci già se noi ascoltassimo le parole del prete, quando unisce l'uomo e la donna, che non a caso Dio creò, va bene, a immagine e somiglianza, quando dice nella buona e nella cattiva sorte, nei momenti in e nei momenti out. È lì che deve crearsi l'unione. Come dicevo prima, è necessario una catarsi. C'è l'uomo, ancora, è cronica di oggi, sfoga le proprie violenze nascoste, perché quelle sono. È lui che è violento dentro di sé e poi trasmette questa violenza sulla donna. Senza morale, fisico, etico, in tutta la maniera. Dovrebbe un pochettino guardarsi allo specchio, allo specchio dell'arma. Ma io, se vado d'accordo con la mia donna, che dovrebbe essere, e lo è, in modo formale, però io lo dovrei rendere, in modo sostanziale, la compagna della mia vita e la madre dei miei figli, perché devo farle del male? Perché devo considerarmi superiore? Siamo tutti e due sulla stessa barca che dobbiamo navigare, non a vista. Dobbiamo navigare perché? Perché la navigazione interessa tutta la famiglia e non l'uomo per i suoi benefit e non la donna per le sue problematiche, ma tutte e due. Uno deve confidare a lei le proprie esperienze, le proprie sofferenze, l'altro deve cercare di intervenire. Quando uno si arrabbia, l'altro dovrebbe stare zitto, viceversa. Queste le cose potrebbero andare avanti in un certo modo. Grazie.